Passiamo a Fatumata Cane. Fatumata viene dal Mali Senegal e ha sposato il figlio di un grande storico africano, Kiservo. La sua esperienza di giornalista, scrittrice, donna di cultura è arredita da questo rapporto e da questo impegno che ha portato avanti negli anni per diffondere e continuare il lavoro di Kiservo e il suo pensiero. Fatumata, qual la parola? Buongiorno a tutti. Grazie di me donna la parola in questo senso del ministro dell'Affeczio del nedenio dell'Affeczio e in un'oka strana di Kiservo. la paella del 2011 per la famiglia del 2015 è un veritabile défi a visto dei conflitti attuali che si trattano su il continent questi conflitti inexcusati dimostrano ancora la fragilità delle famiglie face a delle violenze multiple ma anche il suo lavoro maggiore di passerelle tra le comunità sono in effetti un maio importante e improtournante nella consolidazione della paella e la ricostruzione non solo maîtrisse il migliore le tissu sociale le calme la proximità continua con le population maîtrisse sono anche confrontate quotidianamente aux problemi majeure che migliano le società africano post-conflict e di loro progetti. Il regetto la violenza e il progetto al principio di libertà, di giustizia, di solidarietà, di toliranza e d'entente a un po' e 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 un po' La paia non può essere imposata a una società o una comunità. Pensiamo che deve essere sviluppo da base al somministro. Femme africane si battono per loro e per migliorare la sua posizione nella società. Sono le principale attività della promozione della cultura e della paia, ma sono sempre limitate per l'inattività del progetto. Reconnaire oggi il rilevo primordiale delle femmes in Africa in donna una visibilità claire di ciò che è veramente loro vita in transmettando l'informazione justi sui loro formidabili coraggio, loro vogliono vivere per l'inattività e per l'inattività che permette di bravi di enormi ostacoli per essere dei affetti e per l'inattività e per l'inattività per l'inattività per l'inattività di più di altri sui 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 eggi come sui sui lì sui 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 al livello dei cambiamenti significativi che sa misa in oeuvre è supposita generare. Questa risoluzione 1325 non può avere senso che quando si passa da l'Etat di declarazione di engagement a l'Etat d'engagement. La campagna per l'octroi di Nobel aux Femme d'Africa è una forma originale e intelligente di dare una visibilità e una chance a tutte le Femme de l'Ombre che meritano che i problemi siano prodotti, che i progetti siano discutati e siano soutenuti e che tutte le maggi d'Africa e d'ailleurs le siano tenduti per qu'elles sortent enfin delle generalità e delle statistiche négative dei pouvoiri pubblici nazionale e internazionale e qu'enfin l'intelligence prime sulle le certitude primiare. A la croisière des chemins de nos millonaires, face aux multiplications des résolutions et à l'inefficacité de leur application per una migliore protezione dei femmes e una prevenzione dei conflitti, le Femme del continente africano, di par l'engagement sulle multiple fronte di affianza, di lavoro, di dignità, di abdicazione, portano effettivamente sulle le pomme apparemment fraile, l'espoir e la survie di tutto un continente. A questo tito, e per sublimare le loro action diverse e concrède sul terreno, elles necessitano di ricevere le prix Nobel per la paix del 2012. Grazie. Grazie. Applaus